Il rap e il trap possono influire negativamente sulla vita, sulle decisioni, sull'educazione, sui comportamenti dei nostri ragazzi? Se il rapper Palma dice assolutamente di no, forse bisogna ricostruire un po' quello che sta accadendo nella nostra società. Bisogna partire dal presupposto che certo non è la musica che si può sostituire ai genitori, nessuno ha mai pensato che questo possa avvenire, né forse regge il paragone che ha fatto qualche esponente del governo con i nostri tempi, in cui forse le canzoni di Battisti o le canzoni di Guccini o quelle di De Gregori potevano essere spinte molto serie ad un atteggiamento morale diverso o quantomeno non comune. Oggi il trap e il rap non è soltanto quello che noi immaginiamo, perché molte delle persone che parlano di questi filoni musicali magari non hanno mai ascoltato una canzone, non hanno mai visto un video di lancio e non hanno nemmeno capito che questo tipo di messaggio che arriva in una condizione di fragilità del ragazzo è irrecuperabile rispetto al tipo di formazione che può dare la famiglia. Oggi molto in discussione rispetto ai temi educativi e allo stesso tempo la scuola. E allora cosa dire quando si pensa che un pezzo trap, un pezzo rap o un pezzo anche neomelodico ascoltato anche da un ragazzino di 12 anni o da una ragazzina di 13 anni possa completamente non influire sul suo atteggiamento e sul suo stato d'animo. La musica è sempre stata, come hanno detto tutti i grandi e la musica del mondo, un grande, grandissimo veicolo per riuscire a trasmettere messaggi molto forti. Messaggi sulla pace, messaggi sull'amore, messaggi sulla convivenza civile, messaggi sulla necessità di cambiare atteggiamento su grandi questioni, pensiamo anche alla questione della sostenibilità dell'ambiente. E oggi noi invece ci ritroviamo ad avere tutta una serie di esempi negativi che non ci portano nemmeno a identificare l'amore, il sesso, l'amicizia nel modo in cui devono essere identificati. No, la musica non deve educare, devono essere i genitori ad educare, deve essere la scuola a formare, ma la musica può lanciare dei messaggi molto positivi. La musica insieme allo sport è il più grande collante sociale, non possiamo ridurla a qualcosa che induce alla violenza e poi dire che non è colpa dei rapper o dei trapper per tutto quello che sta accadendo. Non è sicuramente colpa, ma non c'è nessun merito a spingere un ragazzo fragile, una ragazza fragile alla violenza. Grazie. 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 Grazie.